Ciao Gentaglia, sono ShooterHatesYou e questo è Breaking Italy, lo show che viene onda da lunedì al venerdì, nel quale parliamo di cosa succede nel mondo. Ma prima di iniziare a parlare delle notizie di oggi, leggiamo subito l'alfile della Gentaglia della giornata, che è Simone, ci manda questa foto, nella quale non solo porta il mio logo sulla fronte, ma lo ha anche fatto su Minecraft, quindi grazie due volte Simone, sei il nostro alfiere per oggi. La prima notizia invece della quale voglio parlare è relativa alla morte, giusto per tenerci allegri. Uno studio infatti svolto in territorio americano ha fatto una classifica di quali sono le cause per morte accidentale, quindi non morte dovuta a malattia, in continente americano. Tenete presente che in passato il podio era occupato dalle morti in auto. E quando dico prima intendo precedentemente al 2000, questo studio si interessa degli anni dal 2000 al 2009, quindi vediamo quali sono le cause di morte accidentale più comune nella nostra società o in una società simile alla nostra. Al quinto posto, omicidio, era abbastanza facile da pensare, qualcuno che uccide qualcun altro, quinto posto, ok ci sta. Quarto posto, cadute accidentali, crediateci o no, ma moltissime morti avvengono perché le persone inciampano, sbattono la testa, cadono dentro ai tombini, più persone muoiono per cadute accidentali che per omicidio, il che sotto un certo aspetto è una buona cosa, specie negli Stati Uniti. Al terzo posto c'è avvelenamento, quindi la prossima volta che vedremo un cane mangiare qualcosa di schifoso e dire no ti fa male, poi potremo pensare che effettivamente anche la nostra razza perde un sacco di persone per avvelenamento, perché mangiamo cose che non avremmo dovuto mangiare o tocchiamo cose che non avremmo dovuto toccare o cose di questo tipo. Al secondo posto c'è incidenti d'auto, un sacco di persone all'anno in tutti i paesi largamente motorizzati sono colpiti da un sacco di morti appunto in auto. Però è al secondo posto, il primo punto è suicidi. Negli ultimi dieci anni negli Stati Uniti il tasso di suicidi si è sollevato del 128%, quindi si è più che raddoppiato. So che molti di voi stanno pensando, ma sono gli Stati Uniti, in Italia siamo tutti allegri, il sole, il cuore, l'amore, non è così. Questa che vi sto mostrando è infatti una classifica di paesi messi in ordine per numero di morti causate da suicidi. Al primo posto c'è il Sud Corea, che apparentemente deve essere un brutto brutto posto nel quale vivere, possiamo vedere il Giappone al settimo posto, che è un paese noto per i suoi molteplici suicidi, e l'Italia è abbastanza più giù, vicino all'Iran, al 64esimo posto. Quindi se state pensando di ammazzarvi, non fatelo, perché ci sono un sacco di cose belle per le quali vivere, tipo mangiare, o accoppiarsi, o accoppiarsi e mangiare, o mangiare e accoppiarsi. Comunque non fatelo, anche perché poi la gente metterà le mani sul vostro conto in banca. Un altro studio infatti mostra che i codici PIN di quattro numeri utilizzati generalmente nei telefoni, o non so, nei bancomat, sono di una facilità incredibile da indovinare. Nick Berry e la sua società Data Genetics hanno analizzato 3 milioni e mezzo di PIN, veri PIN, utilizzati da vere persone, e hanno scoperto che quasi l'11% di questi PIN era... sì, 1, 2, 3, 4. Seguito da un ottimo 6% di 1, 1, 1, 1, e da quasi un 2% di 0, 0, 0, 0. Il che solleva le possibilità a circa il 15% per ognuno di noi che trovi per terra una tessera di inserirla in un bancomat e prelevare dei soldi prima che la persona si accolga di averlo perso. Conseguentemente cambiate il vostro PIN. 1, 2, 3, 4 non va bene, 1, 1, 1, 1 non va bene, ma neanche 1, 2, 1, 2. E visto che ci siamo, neanche la parola password utilizzata come password è un ottimo modo per tenere lontane le persone dagli affari vostri. Parlando di altre cose, moltissimi di voi mi hanno chiesto di commentare l'evento bla bla, che è in questo momento la nuova ragione per la quale l'Italia è offesa, è scandalizzata, eccetera. E tristemente non mi riferisco al caso della Polverini, per chi non sapesse di cosa sto parlando velocemente. La regione Lazio, guidata sino a ieri, dato che si è dimessa da Renata Polverini, è stata al centro per una settimana buona di uno scandalo per soldi pubblici utilizzati da vari consiglieri per cose personali come cene, viaggi, massaggi, comprare case. È sempre la stessa storia, ci sono un sacco di soldi nella politica perché è sovvenzionata da fondi dello Stato, ma tendenzialmente i controlli, come questi rimborsi elettorali che poi finiscono nelle casse dei partiti, vengono spesi, sono molto, molto inesistenti. Quindi ogni volta tutti i stupiti dell'opini, oddio, ma compravano le ostriche con i nostri soldi? Sì, sì, ovvio, se nessuno li controlla, sì. Ma non è questo che fa infuriare l'Italia. E a far infuriare l'Italia è il fatto che Nicole Minetti, giorni fa, ha fatto da modella per un brand di moda che è Para, o Parà, non sono esattamente un esperto in tal senso, e quindi ha sfilato su una passarella indossando dei costumi da bagno venduti da questo brand. E improvvisamente, sei una consigliera, come hai potuto fare questa cosa, bla bla bla... Ragazzi, mi dispiace dover ogni volta nuotare contro la corrente, però io non ci trovo niente di male. Personalmente io non ho alcun interesse verso la Minetti, se non puramente estetico, ma non posso interessarmi a lei come politico, perché Nicole Minetti non è un politico, è una persona che è entrata in consiglio regionale della Lombardia a causa delle sue amicizie con Silvio Berlusconi. Non ha meriti politici, non ha preso dei voti, ce l'hanno messa. Il problema è questo, ovvero che una persona, qualsiasi tipo di persona sia, raggiunga una posizione politica o una qualsiasi posizione perché conosce qualcuno, perché fa dei favori a qualcuno di qualsiasi natura sia. E su questo siamo d'accordo. Nicole Minetti è la rappresentazione per molti di un sistema che non funziona in Italia, un sistema fortemente non meritocratico. Lei in queste condizioni non dovrebbe stare lì. Il fatto che però poi vada a sfilare non mi sembra una cosa così terribile, perché il problema apparentemente è lo sfilare. Non c'è niente di male, a meno che non consideriamo fare la modella qualcosa di degradante. Ma se ragioniamo in questi termini, ovvero la modella è un lavoro degradante, dobbiamo rivedere tutti i funzionamenti della nostra società. E questo non lo possiamo fare perché la nostra società funziona su delle regole prestabilite dettate dall'istinto. E una modella sfrutta uno di questi istinti che è l'attrazione sessuale, il vettore per buttarvi addosso e farvi comprare la loro roba. E in tutto questo io non ci vedo niente di male, come ad esempio non vedo nulla di male in programmi come veline. Vuoi fare la velina? Vuoi che la tua posizione nel mondo sia quella di sculettare davanti a uno schermo? E tante persone che dicono bel culo? Per me ci sta. Non sono così ipocrita da dire che non mi piace. A me piace vedere una donna che sculetta davanti a uno schermo. Il problema per me si solleverebbe unicamente dopo che una ragazza entrata a veline la finisca a fare il ministro, semplicemente perché sculettava davanti a uno schermo. Questo non andrebbe bene, ma prendersela con una modella o con una persona che decida di fare la modella semplicemente perché fa quel lavoro è ipocrita secondo me. Comunque questo è Breaking Italy, quindi vorrei sapere la vostra opinione in merito. I commenti sono qua sotto. Keep it classy. In ultimo volevo parlare per un paio di minuti velocissimo di un'ultima cosa. Ieri notte a mezzanotte è stato aperto il sito Huffington.it, ovvero la versione italiana dell'Huffington Post. Per chi non sapesse cos'è l'Huffington Post, è un giornale creato dalla signora Huffington nato negli Stati Uniti che è stato un po' il precursore di tanti altri giornali online che ne utilizzano la stessa forma, ovvero una redazione, notizie scritte e pensate da giornalisti per essere pubblicate online, quindi aggiornate continuamente. A guidare l'Huffington Post Italia è Lucia Annunziata, una famosa giornalista che è stata immediatamente al centro di una polemica online, rilanciata anche spesso dal gruppo No Free Jobs, dato che i blogger, che costituiscono non solo una piccola parte del sito, ma proprio la spina dorsale, almeno di Huffington Post americana, non vengono pagati e sono tanti. In Italia sono già 186. E la risposta di Lucia Annunziata è stata questa. I blog non sono un prodotto giornalistico, sono commenti, opinioni su fatti in genere noti. Ed è uno dei motivi per cui i blogger non vengono pagati. E io volevo chiedere a voi, secondo voi è giusto? Perché da una parte io, personalmente, proprio come blogger, mi batto fortemente perché l'idea che ruota attorno alla figura del blogger e quella attorno alla figura del giornalista rimanga divisa da un muro di ciamento armato, elettrificato, con Gremlin. Sono due figure completamente diverse e fanno due cose completamente diverse. Ma questo non significa che il blogger è la versione sfigata del giornalista. È un'altra cosa. Peraltro complementare, perché non potrebbe esistere senza la figura del giornalista classico. Certo, alcuni lo faranno per sfizio. Ad esempio, l'ex ministro Tremonti avrà un blog su Huffington Post Italia. E difficilmente lui, credo, abbia bisogno di essere pagato per qualche post che potrebbe decidere di scrivere lì. Ma su Huffington Post USA, alcuni blogger sono diventati incredibilmente celebri e ciò nonostante non vengono pagati da Huffington Post. Quindi, oltre alla storia della mini, ti vorrei che mi diceste nei commenti anche cosa ne pensate di questo. Dovrebbero essere pagati o è una grande opportunità per acquisire visibilità? Con la visibilità non si mangia comunque. Prendetevi questo come punto fermo. Ma questo, gentaglia, è tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Grazie per aver guardato. Se il video ti è piaciuto, come al solito, fammi sapere con i mi piace, con i commenti, con i mazzi di fiori, cantami una canzone. Adoro le canzoni, però in inglese. Cantami una canzone rap. E grazie ai ragazzi di Fanpage che continuano a sponsorizzare Breaking Italy e hanno creduto in Breaking Italy dall'inizio, come molti di voi. È una bella cosa per me. Specie in questo momento nel quale dico Breaking Italy, ma... Sono asciuto a Hates You. Questo era Breaking Italy. Ci vediamo domani alle 18. Oppure sul secondo canale.